L'impianto AISA di San Zeno mira ad essere sempre più green e adesso presenta un nuovo servizio in collaborazione con la Comune di Arezzo e la Coldiretti per evitare gli abbrucciamenti di sfalci e potature. L'impianto AISA di San Zeno ha preso questa decisione, quindi di andare con tenacia verso tutte quelle forme dello zero spreco. Sarà predisposto così un servizio di cippatura sul posto, su prenotazione e a un costo calmierato. Un soggetto che non ha necessità si prenota e arriverà in mezzo sulla sua proprietà e provvederà a cippare gli scarti, le ramaglie che una volta cippate sostanzialmente verranno disperse nel terreno e opereranno dal nutrimento al terreno stesso. Cioè è un'operazione, nello stesso tempo, di economia circolare perché in qualche modo si riproduce materia prima o seconda, non si produce rifiuto, quindi non si trasporta, non ci sarà il problema di dover raccogliere nei cassonetti degli sfalci tutto questo materiale e quindi noi pensiamo di aver dato una risposta concreta. Prenderà in oltre forma a breve anche la City Farm, un progetto da sempre caro a zero spreco. Ovvero una fattoria dove Coldiretti, con le proprie professionalità, potrà sperimentare in collaborazione con noi tutte quelle che sono anche le forme delle nuove tipologie di agricoltura. Questi progetti sono per noi importanti perché quando capiamo che possiamo essere utili a collaborare con idee che ci aiuteranno a migliorare il nostro territorio, ovviamente ci fa sempre molto piacere e siamo sempre a disposizione.